Il prossimo, un forte gare di Paoloni e Slusnet, attenzione alla prima staccata. Don Malzmit! Don Malzmit, che è stato sorpreso nettamente nella partenza di Malzmit, che dall'esterno si è capapuntato all'interno. Ha avuto anche la fortuna che nessuno dall'esterno abbia allargato la traiettoria frenata, quindi ha potuto sfruttare questa situazione. Cosa ha Marti? Messo benissimo all'interno, ma Malzmit va via di potenza sull'alberto. Sapevamo che era... saranno tutte parti incredibili. Qua la lotta a Malzmit! Marti! Oh, e... Stiamo già bene a vedere! Fa' sicuramente... E la guerra è vera! 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 Maoloni è il sottoporto! E la guerra è vera! Guardi come! Guardi come la guerra è vera! Guardi! Guardi, Marti, Porti, Sir! Detlema nei primi quadri! Guardi alla larga sezione, Marti, che può passare! Adesso la pietra è larga! C'è un messa di endo! E... Capi-Tin approfitta! Capi-Tin di Inter! la seconda posizione ne approfitta, mentre i poloni sempre stanno a scuola, c'è la scuola quando dovete andare avanti, diventa dura quando dovete andare avanti. Non ci aspettavamo, ma la seconda posizione è lasciata, lo spazio che non aspettava altro, erano due tiri che si provava, e al terzo o terzo giro è stata una bella vignata, e se ne è andata, anche perché essendo l'interno bastava allargarsi, e lo spazio per l'alberto non spera tutti. Buongiorno! Bella la trova! Questo costruzzo si sparglia, e e razzia probabilmente la seconda posizione. Marcia! Guardi qui! Non c'è nessuno, non c'è nessuno, non c'è nessuno. Non c'è nessuno, non c'è nessuno, non c'è nessuno. Non c'è nessuno, non c'è nessuno.